Oggi apriamo questo ulteriore punto vaccinale di prossimità qui presso la Casa della Salute di Montecchio di Vallefoglia. È molto importante perché oltretutto è un punto vaccinale prevalentemente pediatrico ed è il primo di tutta la regione che viene aperto e questo perché abbiamo scelto questa città, insomma questa zona, perché in realtà ha il tasso di giovani più alto rispetto a tutti i miei comuni del distretto di Pesaro. Quindi è stata scelta per questo, è stata scelta la Casa della Salute di Montecchio perché deve essere luogo di integrazione fra il comune, fra noi, fra l'Asur e la popolazione. Comunque è un luogo riconosciuto dalla popolazione e facilmente raggiungibile. Sono stati istituiti due ambulatori che lavoreranno praticamente in simultanea grazie ai pediatri di libera scelta che hanno deciso di venire dentro praticamente la Casa della Salute e darci questo ulteriore aiuto rispetto alla vaccinazione, in particolare per l'età pediatrica e comunque i giovani adulti. Questa è una battaglia che abbiamo iniziato già a febbraio chiedendo un punto vaccinazione qua a Vallefoglia. Dopo diversi sopralluoghi avevamo anche avuto il consenso da parte di Asur e Regione, ma non è stato possibile aprire prima anche perché servivano medici disponibili a prendersi la responsabilità ed oggi finalmente, ogni mercoledì pomeriggio, avremo un presidio anche qui alla Casa della Salute. Per questo devo ringraziare la dottoressa Mirca Marangoni, pediatra, che insieme ai colleghi si è presa la responsabilità di gestire questo centro che non sarà solo a disposizione delle vaccinazioni per bambini dai 12 anni in su. Lo voglio sottolineare, ci sono tre modi per potersi prenotare o attraverso proprio l'agenda degli stessi pediatri o attraverso la piattaforma di poste italiane, quindi quella ufficiale, in cui saranno messi a disposizione 30 posti ogni mercoledì pomeriggio oppure con l'accesso diretto, perché se dovessero avanzare delle dosi è possibile venire qui alla Casa della Salute di Vallefoglia e mettersi in coda. Un risultato fondamentale, per cui ringrazio ancora Asur e tutti i medici, perché non possiamo illuderci che l'emergenza Covid sia del tutto terminata e in vista della prossima stagione autunnale e invernale sarà importante ancora favorire la copertura totale con la vaccinazione. Oggi è veramente una bellissima giornata e essere riusciti ad attivare anche il centro vaccini qui a Vallefoglia è sicuramente un ottimo risultato. Sono molti mesi che stiamo ripetendo il fatto che era importante riuscire ad aumentare il numero di punti vaccini che avrebbero sicuramente avuto un effetto positivo anche per stimolare e incentivare le persone a vaccinarsi. E essere riusciti ad aprirlo proprio in estate, questo che è un periodo sicuramente molto critico, dove i dati ci dicono che le persone poi stanno diminuendo, cioè le persone che sono disponibili a fare il vaccino, è stato veramente un segnale importante. Grazie a tutti.